Il Calcagno dell'associazione Calciatori ha detto l'esempio iniziale dell'arrivare dei calciatori quando si tratta di queste partite visto che all'andata ci sono anche queste visioni della maglietta dopo il gol fatto della scappa che è sembrata anche un po' una sorta di provocazione nei confronti dei tifosi che non c'erano nella noceria ma c'era la diretta tv che cosa possono fare i calciatori per chi questo tipo di partite non vada a incidere sulla gente che è da casa a cui guarda? Ma ha detto bene Umberto Calcagno perché comunque i primi a dare l'esempio dobbiamo essere noi dobbiamo essere leari, sportivi, non dobbiamo essere antisportivi dobbiamo giocare con lealtà e cercare di eliminare queste piccole sciocchezze queste sciocchezze con la maglietta ho visto anche quello che è successo con il derby la frusione latina che zappino, queste magliette fanno male perché aizzano solo un po' di violenza e creano problemi tra le tifoserie e questo noi dobbiamo eliminare totalmente dobbiamo giocare con lealtà, sincerità con determinazione sì, però sempre essere leali questa è l'arma che possiamo usare grazie a tutti